bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi attenzione perché abbiamo tutta la patch 12.61 appena uscita da poche ore e ci sono veramente un sacco di cose da vedere prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notizia con i miei video news e allora andiamo direttamente ragazzi nella prima immagine sbadabam abbiamo la skin dedicata all'evento che sta per arrivare questo sabato alle ore 20 la skin si chiamerà in game ciclone quindi ciclone ma nei file di gioco è chiamata hurricane quindi uragano e questa skin in realtà non è proprio una nuova skin ma bensì è mida stesso che indossa l'armatura che ormai da un bel po abbiamo visto presente in game e nella sua porzione di agenzia nella lobby come vedete abbiamo una nuova schermata di caricamento in arrivo e questa schermata come vedete mostra mida stesso che allunga la mano verso l'armatura che probabilmente anzi quasi certamente gli permetterà di avere il controllo della tempesta anche perché notiamo che sul background di questa immagine c'è proprio il doomsday device che ha al massimo della potenza con i fulmini che scoppiano dentro e che appunto sono controllati o almeno questo crede il nostro mida andando avanti abbiamo proprio un set invece dedicato per questo nuovo outfit tra cui ci sarà anche il nuovo balletto to see slide molto molto carino anzi il balletto ce l'ho ve lo voglio far vedere molto molto rapidamente in modo che anche voi sappiate quello che arriverà e quindi godiamoci due secondi di balletto porca miseria l'altro display non è questo lol e l'altro l'altro molto semplice diciamo ecco forse non gli sta proprio benissimo a questa skin il balletto ma è comunque molto molto carino ugualmente andiamo avanti perché ovviamente non c'è backpack senza skin un nuovo mantello verrà introdotto che farà sempre parte di questo nuovo set probabilmente di rarità leggendaria e andiamo avanti perché invece è stata scoperta anche una nuova ltm che probabilmente potrebbe proprio arrivare in questi ultimi giorni prima ovviamente della stagione numero 3 si chiamerà the device quindi la macchina il titolo in italiano e la descrizione dirà mida's master plan is ready to unfold il piano il progetto di mida è pronto ad essere scoperto staremo a vedere che cosa succederà in questo ltm della quale abbiamo veramente pochissime informazioni se non proprio descrizione e nome e andando avanti invece entriamo direttamente nei file di gioco perché hanno aggiunto un sacco di stringhe interessanti in questa pace 12.61 la prima è quella che vi sto facendo vedere in questo momento che dice water player underwater mix fritter.wasset la parte che ci interessa è la parola underwater mix quindi sott'acqua succederà probabilmente qualcosa o si alzerà il livello dell'acqua o andremo noi player come vedete lì sott'acqua perché magari non sarà controllabile il livello o succederà qualche cosa non lo sappiamo staremo a vedere qualcosa sicuramente succederà e andando avanti ancora delle stringhe invece dedicate proprio all'agenzia agenzia che subirà un drastico restyling se lo possiamo chiamare così e ne parleremo più avanti in questo video non vi preoccupate fra pochi secondi come vedete a pollo è il nome della mappa di questa di questa nuova mappa poi vuol dire poi to fin feste in quindi punto di interesse agency ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica le stringhe che stiamo leggendo è hiding quindi nascosto a b security e support bl dgs starà per qualche cosa un'abbreviazione che non sappiamo ma anche qua ci saranno appunto delle cose dedicate all'agenzia e andando avanti invece altre informazioni queste forse relative invece all'evento vi voglio ricordare che io non vi farò vedere nessuna immagine se dovesse uscire in anteprima dell'evento non voglio spoilerare le immagini finché parliamo di stringhe di codice va bene tanto non sappiamo di cosa parliamo ma non vedrete nei miei video leaks non vedrete mai delle foto o degli spezzoni di quello che succederà nell'evento ci tengo anche se io purtroppo li vedrò perché ci devo fare i video non voglio farli spoilerare a voi non mi piace questa cosa e quindi build up 10 secondi di costruzione edge opening quindi qualcosa che si apre rice fall 5 secondi caduta nel vuoto di 5 secondi tempo with teletrasporto e turbo lens 10 secondi quindi tempeste 10 secondi potrebbero anche essere forse delle degli avvenimenti che succederanno durante la nuova ltm non lo sappiamo perché 10 secondi 5 secondi sono più da modalità piuttosto che da evento sinceramente ma anche qua staremo a vedere e andiamo avanti e ritorniamo un secondo sull'immagine di caricamento che vi avevo fatto vedere all'inizio se notate in mezzo a quel rettangolo rosso si intravede nel riflesso una skin femminile adesso guardate bene non so se lo state vedendo si capisce davvero bene i due occhi il naso e la bocca potrebbe essere la skin femminile dell'engineer quindi quell'immagine nella fotografia presente sul desk di mida che però si ritrova anche nei negozi di corso commercio in fianco alla skin brutus quindi sappiamo che c'è un collegamento con la skin the engineer che è una ragazza e mida e potrebbe essere proprio lei magari addirittura una skin in arrivo nella prossima season e andiamo avanti ed ecco qua ragazzi i file dedicati all'agenzia queste ovviamente sono le immagini non renderizzate presenti nei file di gioco come detto c'è qualcosa che succederà all'agenzia da queste immagini sembra addirittura che non ci sia più l'agenzia quindi forse la tempesta non riuscirà ad essere controllata da mida e si abbatterà sull'agenzia stessa distruggendola quello che sappiamo è che ci saranno dei muri rotti quindi questa è proprio l'immagine dentro i codici sorgenti di un muro distrutto la rivediamo anche da questa angolatura ma la cosa che ci lascia abbastanza senza parole è proprio la parte frontale dell'agenzia che come vedete se notate sulla parte sinistra è praticamente smembrata quindi o esplode la doomsday device o qualcosa succede che distrugge delle pareti insomma ciò che sappiamo è che a rivederci agenzia molto probabilmente non la rivedremo più come la conosciamo ma voglio ricordarvi che un paio di settimane fa vi avevo fatto vedere un'immagine di una nuova agenzia molto più imponente costruita e potrebbe starci il discorso che gli agenti che secondo me non se ne andranno nella stagione 3 si diano da fare per ricostruire il loro quartier generale e chissà che cosa potrebbe succedere per quanto riguarda l'evento della storyline terminiamo questa parte di video questo video dedicato alla pace 12.61 ricordandovi che ci sono due nuovi outfit la prima è agent jonesi quindi la skin base di jonesi jones quello in poche parole per dirvi che abbiamo visto anche nella versione naufrago nella season 8 sarà anche probabilmente nella versione agente in arrivo e come vi stavo dicendo all'inizio del video hurricane è proprio il nome della skin che arriverà quella che vi ho fatto vedere ci sono degli spoiler che però ovviamente non sono di immagini ma solamente di codici di stringhe di codice aggiunte nella 12.61 doveva ice l'arma the agency mid as muscle plane is ready to unfold abbiamo già letto is machine is ready la sua macchina è pronta fully charge quindi pieno carico life the storm combatti la tempesta e can the storm be broken può la tempesta essere distrutta ovviamente si potrebbe parlare anche della tempesta che sta avvolgendo l'agenzia e giorno per giorno continua ad ingrossarsi e terminiamo con degli altri delle altre stringhe aggiunte probabilmente relativi all'evento che sarà qualcosa di incredibile can trigger knock gravity rocks ground smoke energy impact rain starts storm out water impact wind push in storm lightning strike e final teleport insomma ragazzi un evento che si promette di essere un qualcosa di incredibile vi ricordo di nuovo sarà in live l'evento sabato alle ore 20 non perdete non mancate io vi ringrazio per aver guardato il video news di oggi voi che mi state guardando su twitch non sto andando via adesso mando l'outro del video ma non sto andando via noi ci vediamo in live su twitch ciao e scusate mancano sei secondi per poter monetizzare bene il video quindi facciamo un piccolo countdown 5 4 3 2 1 ok